Teramo tra storia e sapori, un format per rilanciare il turismo in città, pensato dall'assessore comunale al commercio Roberto Canzio, in collaborazione con l'ex assessore Marco Tancredi. Una serie di eventi, il primo è previsto per domenica 5 marzo dalle 8 di mattina sino alle 8 di sera e si svolgerà a lungo corso San Giorgio con l'esposizione di tipicità, artigianato e prodotti della terra terramana. Domenica sarà la prima manifestazione che aprirà tutta una serie di manifestazioni Teramo tra storia e sapori. Allora domenica si verrà a Teramo per assaggiare cosa? Allora noi abbiamo detto che avremmo puntate solo su quelle che sono le nostre ricchezze e quindi domenica iniziamo a sviluppare quella che è la nostra enogastronomia e le nostre tipicità artigianali. Quindi sarà un primo incontro e insomma sarà anche un modo per valutare quello che poi sarà la reazione della città ma anche da chi viene fuori Teramo rispetto a questo tipo di iniziative. Per chi viene a Teramo per la prima volta, a livello storico, che cosa deve vedere e poi che cosa deve assaggiare? Che cosa deve vedere? Ma sicuramente abbiamo un bellissimo romanico, insomma il Duomo che ha dentro anche delle meraviglie dell'arte quindi sicuramente è una delle prime cose da visitare. E il Duomo non la prima ma non la sola perché poi ci sono tante altre cose, ci sono i percorsi archeologici che questa amministrazione ha riportato alla luce in parte insieme all'amministrazione precedente. Per il gusto? Ma per il gusto non lo so, in questo periodo direi i ravioli perché sicuramente sono i ravioli dolci, io prediligo i ravioli dolci cioè i ravioli col ripieno di ricotta dolce però con il sugo cioè fatti come primo. Se devo dire un piatto di Teramo di tutto l'anno che io proprio prediligo e che mai sono le mazzarelle sicuramente le interiori ad Agnello, l'Agnello fa parte della nostra, si avvicina alla Pasqua quindi fa parte della nostra cultura, fa parte della nostra cultura enogastronomica anche della nostra cultura diciamo così religiosa.